Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo mio nuovo video. Oggi siamo in un punto diverso della casa perché sto facendo, infatti anche la Stellina è arrivata a farmi compagnia, perché sto facendo un pochino di casino dall'altra parte dove di solito faccio i video perché voglio un attimo, tra virgolette, ristrutturare e quindi c'è un po' di casino, non volevo far vedere niente. Poi tra l'altro se puoi vedere c'è Davidone lì in un angolo insieme a Sanchez, il vecchio calendario della Fiorentina di quando c'era ancora Davide. E niente, allora ragazzi, che vogliamo dire? Si parla ovviamente di Spal Fiorentina. Ho voluto aspettare un giorno, vi dico la verità, il video non è uscito subito perché ho voluto aspettare almeno una giornata per vedere tutti i video, intanto la Stellina fa cazzi sua, lasciate perdere, se giro un pochino. Ho voluto vedere tutti i video, ho voluto sentire tutti i commenti della gente, cosa ne pensano, oltre anche extra, diciamo, tifosi fiorentini e Spal, insomma, perché ovviamente quelli della Spal criticano, è normale, quelli della Fiorentina si difendano, è normale che sia così quando c'è un episodio così, in questa maniera. Lì ne hanno, insomma, ne hanno approfittato, tra virgolette, si giustificano, dicono che è irregolamente i cazzi vari. Quelli che l'hanno ricevuto contro ovviamente si lamentano perché è una cosa incredibile, è successa, è mai successa, è incredibile, che cazzo è successo, ci hanno annullato un gol, l'hanno fatta a loro. Allora, vi dico la mia, io ve lo posso assicurare, sul momento il rigore non l'avevo visto. Io avevo visto Tiago Cionec che era entrato, cioè voleva cercare di entrare di cattiveria su Chiesa, Chiesa in quel momento non era caduta e io sul momento gli avevo detto Cadi cazzo, almeno ti danno rigore! Poi non avevo più visto niente perché la palla era stata spazzata via. Ovviamente sul continuo dell'azione è passato un minuto, due minuti, e poi hanno segnato la Spal, conseguente gole della Spal, quindi 2-1 per la Spal e poi ovviamente sapete tutti cosa è andata a finire. Il mio parere, non perché sono di parte, ma perché alla fine ho sentito i pareri di tutti e ovviamente molta gente ha dato tra virgolette ragione alla Fiorentina perché è sotto regolamento ovviamente, di sicuro la Spal è stata un attimo presa così di sorpresa perché ovviamente è un episodio che non è mai successo perché ovviamente la VAR in Italia c'è da poco tempo e un episodio del genere non si era ancora verificato, adesso si è verificato così almeno ci si mette un punto che tante volte potesse risuccedere, è già successo, è sotto regolamento perché ovviamente l'azione non si era spezzata, quindi ovviamente il direttore di gara Pairetto non poteva fermare l'azione, però appunto c'è stato un gol, però se c'è un rigore primo ovviamente il gol è da annullare e da dare il conseguente rigore all'altra squadra. Quindi, assodato questo, in generale sono contento per tutti per la partita, poi vi farò un video a parte con Gerson e Pioli perché ho una cosina da dirvi che ho le mie varie teorie. Sono contento per Simeone, ora ritrovato tra virgolette la via del gol perché da subentrato gioca molto meglio perché ovviamente lui è fresco, gli altri sono tutti stanchi, nel contropiede non ce la facevano a riprenderle quindi ha fatto bene, ha fatto un bellissimo gol tra l'altro. In generale sono contento per tutti, sono contento per Chiesa, sono contento per Muriel anche se non ha fatto niente di che nella partita. Sono contentissimo, maissimo,issimo,issimo per Edmilson, Fernandez ragazzi perché io ci ho sempre ridotto dall'inizio dell'anno, è stato criticato tantissimo perché ovviamente non è questo grande giocatore, ovviamente, però è ancora giovane, può ancora crescere e per ora lo sta dimostrando, è il secondo gol nella seconda partita ed è il secondo missile che spara da fuori aria, quindi magari abbiamo trovato un buon tiratore da fuori aria insieme a Veretout, ottimo Benassi che comunque il suo lo fa sempre. Sicuro credo che a Viviano questa sconfitta non gli avrà fatto così tanto dispiacere anzi probabilmente ha anche esultato, un saluto e un bacione a Vivianone spero di rivederti un giorno a Firenze perché una volta ti ho incontrato, non ti ricorderai mai però ci siamo scambiati due parole e una foto, tante volte vedrai questo video. Comunque ragazzi, allora, niente, è stata una partita dettata, proprio dettata specificatamente da un episodio arbitrale perché se quella cosa non succedeva, se non c'era il VAR, tra virgolette la partita finiva in vittoria, cioè con la sconfitta della Fiorentina perché la Spalla avrebbe vinto e noi non si sarebbe mai ripreso per la partita cioè quel gol di svantaggio, non si sarebbe mai pareggiato e di sicuro mai vinto quindi ovviamente la Spalla ha incassato il colpo e ovviamente ha preso una, tra virgolette, rimballata perché comunque è stata travolta da questa decisione così inaspettata, inaspettata da tutti però diciamo che la Fiorentina non ha ladrato assolutamente niente come molti sostengono, come sostiene anche il carissimo presidente della Spalla che probabilmente magari si sarà ricreduto, ci ha detto tante cose che sinceramente sono sbagliate tra cui ha affermato che Chiesa non è un professionista e tante altre cose però credo che in qualche modo si sia scusato perché probabilmente si è accorto di aver detto delle parole troppo offensive comunque ragazzi, a parte questo, scusate per il ritardo per appunto del video, vi ho spiegato il perché poi un'altra cosa, seguitemi su Instagram così almeno magari mi potete far sapere in direct insieme a oltre sotto nei commenti del video cosa ne pensate della partita, se per voi l'episodio era giusto fatemi sapere magari qualche vostro commento a caldo e magari qualcosa che mi sono dimenticato nel video una cosa, nella prossima settimana ci sarà la partita importantissima, Fiorentina-Inter di sicuro io farò la live reaction, quindi aspettatevi la live reaction della prossima settimana e quindi niente ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube mettete un mi piace se il video vi è piaciuto, non mi piace se non vi è piaciuto e ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao!